Il costo dei lavori per sistemare il suo Apecar era troppo esoso, per questo un ventitrenne ha deciso di risolvere la questione impugnando un revolvere facendo fuoco contro il suo meccanico colpevole di avergli chiesto 200 euro in più rispetto all'iniziale somma pattuita di 40 euro. E' successo Foggia dove gli agenti della sezione criminalità organizzata della squadra mobile hanno tratto in arresto Felice Piserchi e raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il giovane con precedenti penali per reati contro il patrimonio d'estorsione il 28 settembre scorso stando a quanto ricostruito dagli investigatori avrebbe avuto un violento litigio con la vittima nei pressi di un chiosco di frutta gestitore a Piserchi in Vienaudi. L'elite è degenerata la sera stessa quando Piserchi ha tra l'altro compagno della nipote della vittima si sarebbe presentato presso l'abitazione del meccanico un 38enne con piccoli precedenti gli avrebbe chiesto di scendere per chiarirsi. Una volta Giulia avrebbe esploso contro due colpi di pistola che lo hanno raggiunto alla coscia destra e alla gamba sinistra. Poi fortunatamente l'arma si inceppata evitando solo per pura fatalità che si consumasse il peggio che il tentato omicidio avesse un epilogo fatale. Il ferito fu trasportato d'urgenza in ospedale qui la polizia ha dovuto faticare non poco per raccogliere elementi utili a ricostruire i fatti considerato la scarsa volontà di collaborare da parte della vittima che è stata invece piuttosto fuorviante. Solo un'indagine accurata basatasi anche su intercettazioni telefoniche oltre all'audizione della cerchia di familiari della vittima ha potuto far piena luce sulla vicenda importante la conversazione captata al telefono tra la vittima e un parente in cui venivano riportati i dettagli della vicenda. Felice Piserchi ha definito un tipo piuttosto istintivo dagli uomini della squadra mobile di Foggia illustrando i particolari della vicenda in conferenza stampa in questura è stato quindi arrestato e condotto in carcere per tentato omicidio.